bella ragazzi prima del video mi raccomando non dimenticatevi di fare un salto nella pagina alle mie spalle di instant gaming c'è un giveaway ragazzi instant gaming vi regala un oggetto a vostra scelta videogiochi ricariche ps4 abbonamenti quello che volete nei commenti trovate il link per accedere a questa pagina una volta scelto il vostro gioco automaticamente parteciperete all'estrazione ma se seguite anche questi passaggi ragazzi otterrete una chance in più per poter essere estratti quindi mi raccomando il tempo ragazzi sta per scadere fateci un salto mi raccomando bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi parliamo di un sacco di novità un sacco di leaks riguardanti i prossimi giorni di fortnite in modo che anche voi rimaniate sempre aggiornati con tutto quello che succede nel mondo e nella community del miglior gioco di epic games nel video di oggi ragazzi nello specifico parleremo di alcune skin che ancora mancano all'appello ma che sono presenti nei file di gioco parleremo anche di alcuni bug fixati soprattutto per quello che riguarda le sfide di questa settimana e alcune cose in game non mancheremo ovviamente di parlare anche dell'update 7.20 e ovviamente una bella carrellata di leaks in modo da tenervi come già vi anticipavo sempre sempre aggiornati vi ricordo anche ragazzi mi raccomando di supportarmi con un bel pollicione in su iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento quindi ragazzi la domanda ve la faccio perché voglio i vostri commenti proprio qui sotto ragazzi dovete rispondere alla mia domanda che è semplicissima qual è la tua stagione preferita non obbligatoriamente tra queste tre in generale ragazzi la mia personalmente è stata la season numero 6 ho apprezzato tantissimo tutta l'ambientazione horror dark l'evento di halloween la mappa che cambiava secondo me è tuttora la migliore anche se non ho giocato la season numero 2 fatemi sapere ragazzi qua nei commenti qual è invece la vostra preferita ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a parlare della nuova skin arc che è uscita da poche ore nello shop non sapevamo ci fosse questa skin anche se in realtà eravamo a conoscenza del piccone lo avevamo già visto anche un paio di miei video fa uno dei tre picconi ancora non rilasciati ma presenti nei file di gioco una skin davvero molto particolare perché mi sembra un arcangelo arc dovrebbe stare per arcangelo anche se in realtà fatto in una veste un po' osè tra virgolette con un septum lì l'anello nel naso ragazzi molto molto violento per non dire ragazzi in realtà che gli arcangeli non hanno la corazza comunque a parte quello una skin molto molto bella assolutamente leggendaria vi ricordo 2000 vbucks rimarrà nello shop ovviamente anche domani anche il piccone non è male il rumore del piccone molto molto interessante ma andiamo avanti ragazzi e parliamo invece di un problema che sta affliggendo un bel po' di giocatori che stanno cercando di fare tutte le missioni della settimana numero 6 magari è capitato anche a voi beh ragazzi il problema era che non si riusciva a completare la sfida di danneggiare e di infliggere danni ai nemici con cinque armi differenti in un'unica partita è un problema che sembra abbiano riscontrato i giocatori che facevano questa sfida nelle modalità a tempo limitato quindi epic games sta controllando magari ci sarà un piccolo update proprio oggi o anche magari c'è già stato prima che io registrassi questo video dicono di completare la sfida nelle modalità in singolo volete la mia io sono riuscito a farlo nella modalità domina la discoteca se per voi non è così mi raccomando fatela in singolo o alla peggio giocatela in squad che dovrebbe risolversi assolutamente ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di una delle skin che è completamente caduta nel dimenticatoio sia dei giocatori che molto probabilmente anche dello staff di epic games vi ricordo ragazzi che questo signore qua con il cappuccio e le ali da pipistrello è presente nei file di gioco dalla patch 5.4 quindi ragazzi parliamo veramente di mesi e mesi fa e la domanda che ci chiediamo è ma che cavolo di fine ha fatto questa skin ragazzi io avrei voluto vederla si parlava fosse una skin del twitch prime si parlava fosse una skin invece acquistabile nello shop insomma ragazzi non si è più saputo nulla io non so ragazzi ditemi voi cosa cavolo ne pensate perché a me piaceva sinceramente era molto particolare eppure è sparita ed è caduta nel dimenticatoio speriamo di vederla il più presto ma andiamo avanti ragazzi invece no i codici xuder no sono codici si ragazzi sono codici ma sono codici molto interessanti per alcuni di voi questi ragazzi sono stringhe di codice riguardanti le skin nfl so che molti di voi mi avevano detto max juder ma tornano i calciatori torno le skin del football si ragazzi i calciatori non lo sappiamo se torno ma le skin dell'nfl sono state reinserite nel ciclo di skin che dovranno uscire prossimamente nello shop perché dico le skin nfl perché non sono stati inseriti invece gli arbitri non sappiamo ragazzi se possono diventare rari come appunto come rarità di skin o se invece verranno introdotti insieme alle skin comunque un bel set quello dell'nfl perché con 1500 vbucks potete comunque ottenere una skin che ha veramente tantissimi stili selezionabili e quindi poterla utilizzare nei colori che preferite ma andiamo avanti ragazzi e parliamo invece di tom clancy the division 2 perché parliamo di tom clancy the division 2 perché ragazzi hanno stretto un accordo quelli di ubisoft con epic games e hanno deciso di proporre nello shop interno di fortnite quello che c'è nella schermata di precaricamento del gioco stesso il loro tom clancy the division 2 ragazzi una scelta molto interessante è comunque una nuova prova che epic games si sta imponendo su tutto il mercato degli degli sparatutto o come si dice dei tds dei third person shotting ragazzi tom clancy è comunque un titolo che ha un bel seguito tanti i suoi prequel e ovviamente il prezzo sarà un po più contenuto in quanto hanno deciso di rilasciarlo al pubblico ad un prezzo più accessibile ovviamente ragazzi se lo preordinate adesso dal sito di epic games otterrete l'accesso esclusivo alla beta quindi ragazzi se vi piace questo genere di videogioco il mio consiglio è quello di fare un preordine per avere l'accesso anticipato ma andiamo avanti ragazzi e parliamo anche di alcuni aggiornamenti che sono stati programmati per l'update per la patch 7.2 quindi la prima patch ufficiale nuova dopo le vacanze di natale perché il team di epic games aveva già programmato tutti i tre step dell'update 7.10 abbiamo visto un sacco di introduzioni con l'update 7.20 si parla anche di sistemazione delle trappole ragazzi un utente su reddit si lamentava che c'era un po poco drop rate dei campfire e delle trappole in generale dice io sono arrivato a fine game con 5 torrette leggendarie e non avevo niente per curarmi perché non li ho trovati effettivamente sono d'accordo sul fatto che ci sia un po troppa chance di trovare le torrette rispetto a quello che potrebbero essere altre trappole rispondono direttamente da reddit epic eric sv penso sia save the world ma in realtà non ne ho idea e dice stiamo valutando di modificare il processo di drop rate delle trappole questo vuol dire che si diminuirà ragazzi il tempo c'è la probabilità di trovare delle torrette e si aumenterà invece la possibilità di trovare trappole diverse tra cui campfire e jump beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo presto ciao non parte come sempre l'altro no parte come sempre l'altro no parte come sempre l'altro